Esonerato Gotti, secondo me anche ingiustamente, Ludinese ha deciso di affidarsi al suo vice in maniera stabile. Gabriele Cioffi è così la sua prima panchina di Serie A dopo aver allenato tra il 2018 e il 2019 in quarta divisione inglese. Promosso da secondo ad allenatore titolare, Mister Cioffi è tornato d'antico riportando in auge il 3-5-2. Abbiamo già potuto apprezzare contro il Milan come il ritorno al vecchio sistema di gioco dia più compattezza difensiva alla squadra. Opponendo poi un gioco verticale in possesso palla e in ripartenza. Nel proseguo della stagione mi aspetto un rendimento migliore da Silvestri e Nuitink e più in generale dal reparto difensivo. Attenzione anche a Deulofeo che giocherà più vicino alla porta da seconda punta. Non mi aspetto invece particolari cali tra i giocatori titolari. Vi segnalo solo il caso Sviger Larsen, praticamente fuori rosa per problemi contrattuali. Come possibili sorprese vi segnalo Udoge che potrebbe iniziare a portare anche qualche bonus e Molina che stanno provando anche da mezzala. Lascia un like, iscriviti e attiva la campanella per molti altri contenuti a tema fantacalcio.